Siamo in Vale Bognanco e ci stiamo preparando a salire ai laghi del Paione. Dove sono gli altri rifugio Il Dosso. Passo di Gattascosa ancora innevato. Tra poco svolteremo per le baite e i laghi del Paione. Stiamo andando alle baite. E lassù si intravedono le cercate dei laghi del Paione. Casette baite bellissime qui. Grazie a tutti. Oggi lago del Paione, sentiero tra i boschi. Siamo al primo lago del Paione. Ciao. 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 Ciao.